Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. In apertura il tema del noncello. Il comune di Pordenone ha presentato un progetto che in futuro potrebbe cambiare il volto del fiume cittadino. Il noncello si prepara a diventare protagonista della città. Un progetto realizzato dall'architetto Princic, professore di architettura dell'Università di Ljubljana, prevede stazioni di sosta, aree ritrovo e una vitalità con eventuali negozi da Pordenone a Caorle, valorizzando anche i piccoli comuni rivieraschi come Prata e Pasiano, con l'idea di sfruttare l'asse in barcadero Fiera con il suo ampio parcheggio scambiatore. Si tratta di uno studio di fattibilità che vuole valorizzare quello che è un gioiello della città, il nostro fiume, in modo tale da renderlo utilizzabile su due piani. Uno è più legato all'aspetto turistico, ricettivo della città, il fatto di poter spostare il centro di attenzione delle attività culturali e turistiche dal centro storico verso il fiume durante i mesi estivi, in modo tale da approfittare di questo scenario meraviglioso e allo stesso tempo poter far tornare le persone a vivere il fiume. Dall'altro lato invece il progetto sviluppa un sistema di trasporto pubblico locale che potrebbe valorizzare finalmente il parcheggio della fiera che, al di là delle manifestazioni fieristiche, non viene utilizzato, diventando allora un parcheggio a servizio della città dove uno gratuitamente lascia l'automobile e con il battello in pochi minuti, parliamo di sei minuti, può arrivare in centro città senza problemi e soprattutto godendosi il paesaggio. Un'idea visionaria che ha trovato il sostegno del comune che potrebbe diventare realtà. L'impegno economico sarebbe importante ma il progetto, per il quale non c'è ancora una tempistica definita, potrebbe essere realizzato anche a piccoli passi. Il costo è di parecchi milioni di euro, parliamo di 12 milioni di euro, ipotizzando la realizzazione di tutto. Ovviamente è un progetto tranquillamente frazionabile. A portare sul fiume cittadini e turisti un battello totalmente green. È possibile anche intercettare in questo momento dei fondi a livello ministeriale per realizzare mezzi totalmente ecologici, come abbiamo pensato noi, perché il battello sarebbe solo a trazione elettrica. Questa è l'idea per il futuro, ma al momento le condizioni del fiume sono ancora critiche a causa dell'alluvione dello scorso autunno. Stamattina l'associazione Gomonauti Pordenonesi ha lanciato un nuovo appello affinché si intervenga al più presto sul fiume. In queste condizioni il noncello non è più navigabile e l'attività dell'associazione Gomonauti Pordenonesi rischia di fermarsi. Non usa mezzi termini il presidente del Sodalizio, Gaetano Solarino, che ha denunciato ancora una volta lo stato del fiume, con alberi crollati e altri prossimi alla caduta in acqua. Da Valenoncello in poi, insomma, il corso è bloccato e la gomonata europea di settembre, nel quarantesimo anniversario dell'associazione, è a rischio. Questa è una strada d'acqua che ha bisogno degli interventi ordinari di manutenzione. Intendo dire che quando cadono delle piante devono essere tolte possibilmente, prima possibile, appunto per rendere fruibile il fiume. Questo purtroppo, ahinoi, dal mese di ottobre 2018, il fiume ha interdetto la navigazione, perché la calamità di quell'occasione ha fatto sì che molte piante ad alto fusto si siano schiantati in alveo e stanno struendo a tutt'oggi. Qualcuno si deve prendere a cuore questo problema. Questo fiume è un fiume navigabile, che se ne dica, per cui, come tutte le strade, deve essere accessibile, deve essere, tra l'altro, siamo la vigilia della nostra manifestazione principe, che è della gomonata europea, a metà settembre, e sono preoccupatissimo. Io ho le dite incrociate in questo momento. Ma le rassicurazioni arrivano dall'assessore comunale all'ambiente Stefania Boltin, che garantisce come a breve partiranno i lavori di messa in sicurezza eudraulica con fondi della protezione civile regionale. C'è una novità proprio di ieri mattina, perché la regione, il commissario regionale, ha risposto che è stato approvato il nostro progetto per la manutenzione del fiume Noncello e quindi, incrociando le ditta insieme al presidente, dalla prossima settimana partiranno i lavori. Dureranno circa un mese, quindi per fine agosto il fiume sarà a posto di nuovo. Sono stati richiesti 200.000 euro grazie ai capitoli della protezione civile dopo la calamità di ottobre che ci stanno adesso venendo elargiti per fare questo tipo di intervento. In queste ore la questura di Pordenone sta conducendo un'attività di controllo nei parchi cittadini. Operazione che vede impegnate pattuglie della squadra volante, unità della squadra mobile, dell'ufficio immigrazione, equipaggi del reparto prevenzione crimine di Padova, unità specializzate cinofile della Polizia di Stato provenienti dalla questura di Padova, operatori del gabinetto provinciale della Polizia scientifica e unità operative della Polizia locale di Pordenone. L'attività si inestra in una intensificazione della vigilanza sul territorio, in particolare sui parchi, dopo recenti segnalazioni di situazioni di non decoro da parte di alcuni frequentatori dei parchi stessi. I risultati dell'operazione saranno resi notti domani. Voltiamo pagina a battaglia aperta tra Comune di Pordenone e Croce Rossa sui finanziamenti per la distribuzione dei pasti. I mancati finanziamenti da parte del Comune di Pordenone per la distribuzione dei pasti serali della Croce Rossa animano la guerra politica cittadina. Se da una parte i consiglieri Marco Salvador e Pietro Clussi avevano chiesto un contributo di 3.000 euro a favore della CRI, dall'altra il vice sindaco Eligio Grizzo ha risposto con un no secco, facendo intendere che il servizio è rivolto quasi esclusivamente ai richiedenti asilo, che diventano calamita per altri di loro. Ma sull'idea di una Croce Rossa dedita solo agli stranieri non ci sta il Presidente Giovanni Antonaglia, che sottolinea quanto venga fatto per gli italiani e il territorio. Probabilmente il vice sindaco si dimentica di tutte le attività che noi svolgiamo. Vorrei mettere per prima la collaborazione che noi facciamo con il Comune per quanto concerne l'emergenza freddo e l'emergenza caldo, dando una disponibilità, una reperibilità di 7 giorni su 7 per eventuali esigenze. Abbiamo una distribuzione di viveri alle famiglie che ci vengono segnalate dai servizi sociali, e sono circa 80 famiglie, per due volte al mese. Distribuiamo quattro volte alla settimana dei generi alimentari che preleviamo tramite una convenzione che abbiamo fatto con la COP. Sono generi che vanno alle famiglie, che sono la maggior parte di queste famiglie, sono italiane. Lo sportello sociale è attivo da più di un anno e ha raccolto le richieste di 18 nuclei familiari in questi ultimi 10 giorni. Coincidenza, non c'è neanche un nucleo familiare straniera, sono tutti italiani. I pasti, una ventina al giorno, comunque saranno garantiti anche in futuro, grazie alle offerte dei cittadini e ai ricavi della passata gestione del Lab Monti, soprattutto per merito del lavoro dei volontari. Noi riceviamo annualmente dalle amministrazioni comunali del territorio, non più di 4.000-4.500 euro come contributo che viene dato alla Croce Rossa per le attività che noi svolgiamo su tutto il territorio. Anche il dormitorio di Porcia, che presto potrebbe essere chiuso, non ospita solo stranieri. Sono transitati anche degli italiani e non per ultimo, c'è ancora un italiano che soffrisce di questo servizio. È un italiano che, secondo me, è una cosa vergognosa, è un italiano che da gennaio abbiamo preso in carico e stiamo gestendo noi. Passiamo alla sanità. Gli infermieri dell'azienda sanitaria 5 hanno vinto un'importante battaglia legale. L'azienda dovrà pagare loro l'iscrizione all'ordine. Una sentenza unica a livello nazionale. Il Tribunale di Pordenone ha accolto il ricorso presentato due anni fa da 214 infermieri dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale iscritti al Nursin, il sindacato di categoria. In sostanza, chiedevano che fosse l'azienda a pagare l'iscrizione all'ordine degli infermieri. L'istanza è stata accolta dal giudice del lavoro del Tribunale di Pordenone, Angelo Riccio Cubucci, il quale ha messo in evidenza che la tassa di iscrizione all'albo professionale degli infermieri grava in capo al datore di lavoro. Il Nursin degli infermieri, difesi dall'avvocato Annalisa Delcol, hanno vinto un'importante battaglia che crea un precedente non da poco sul fronte giurisprudenziale. Cause analoghe, intentate sinora in Italia, non sono mai andate a buon fine. A Pordenone, insomma, la sentenza pilota destinata a fare scuola a livello nazionale. È un atto di giustizia, spiega il segretario regionale del Nursin, Gianluca Altavilla. Con questa sentenza, si è dimostrato che l'infermiere ha un contratto di esclusività, come un avvocato. Adesso aspettiamo le motivazioni del giudice, quindi apriremo un confronto con l'azienda sanitaria 5 per il pagamento della tassa all'ordine degli infermieri e continueremo l'iter per sostenere il disegno di legge per la libera professione infermieristica. L'attuale quadro normativo sulla libera professione, va avanti Altavilla, prevede la possibilità di esercizio di tale attività esclusivamente in capo ai medici delle strutture sanitarie pubbliche. Gli infermieri, conclude l'esponente del Nursin, non possono esercitare la libera professione, ma soltanto prestazioni extralavorative dove tariffa ed esigenza le decide il datore di lavoro, configurando un contratto di esclusività. Torniamo a Pordenone. La Procura avrà un nuovo sito internet fornito dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. Sarà garantito anche l'accesso al registro imprese Telemaco. La Camera di Commercio di Pordenone Udine realizzerà il sito internet della Procura di Pordenone e quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato dal Presidente della Camera di Commercio Giovanni D'Apozzo alla presenza del Vicepresidente Giovanni Pavan e dal Procuratore Capo di Pordenone Raffaele Tito, con il quale la Procura sarà sostenuta nel processo di digitalizzazione dei servizi. L'ente camerale sosterrà i costi di registrazione, attivazione e mantenimento di progettazione messa in linea del sito, con un'adeguata formazione del personale per il suo costante aggiornamento. Il documento prevede, oltre alla realizzazione del sito internet, la fornitura da parte della Camera di Commercio degli accessi al servizio registro imprese Telemaco per far sì che la Procura possa interrogare in via telematica e senza costi le banche dati di registro imprese e protesti per ricerca canna grafiche, visure, consultazioni di atti e bilanci delle aziende. Siamo sempre pronti a promuovere l'innovazione della pubblica amministrazione anche mettendo a disposizione l'esperienza del nostro personale per garantire maggior velocità d'azione, efficienza e miglior comunicazione e risposta verso i cittadini e le imprese. Il supporto ancora è più importante conclude da Pozzo quando è rivolto a chi amministra la giustizia e tutela il mercato. I giovani e la droga e questo è il tema della puntata di Eletroshock in onda questa sera alle 21. Ospite della trasmissione il dottor Lucio Bomben direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria 5 secondo il quale ai ragazzi di oggi mancano le reti di protezione. Dobbiamo preoccuparci per definizione di questa situazione perché non è importante tanto la quantità ma è quello che sta succedendo è quello che c'è dietro questi fenomeni di dipendenza e quindi che siano un ragazzino due ragazzini una sola scuola è il fenomeno in quanto tale che è preoccupante. C'è un viraggio mi ricordo quando ero giovane io drogarsi o essere dipendente da qualche sostanza era un fenomeno di contraposizione alla società tra virgolette borghese come veniva detto una cosa una volta invece adesso farsi diventa un modo di essere ed è completamente diverso rispetto a prima le diversità quindi non sono solo culturali ma sono anche poi si vedono nelle azioni di tutti i giorni in quello che abbiamo visto che è capitato e sta capitando a Pordenone come a Udine in questi periodi il fenomeno è diverso il fenomeno è diverso perché i ragazzi sono cambiati la società è cambiata e purtroppo gli stimoli che ricevono sono molto più intensi non c'è più la mediazione rappresentata una volta dalla famiglia o dalla società dalla comunità in quanto tale che non fa più il filtro tra gli stimoli quindi i ragazzi che sono delle spugne incredibili assorbono tutto ma non sono più in grado di selezionare quali sono gli stimoli che fanno bene degli stimoli invece che potenzialmente possono fare male Il telegiornale termina qui vi diamo appuntamento a domani sempre alle 20.45 grazie di essere stati con noi e buona serata Grazie a tutti